Io e Geppetto, una barchetta e tanto pesce. Poi c'è stata una contrazione e la balena ci ha sputati fuori. Lì dentro non c'era niente da fare, solo pescare, pescare, pescare e cercare di cucinare. All'inizio mi ricordo una stella cadente quando arriva la fata e magicamente il burattino che prende vita. Poi che Geppetto ha un gatto e Geppetto è molto spaventato quando il burattino prende vita. Mi ricordo che Geppetto lo cerca, che si incontrano nella balena, ma non mi ricordo i passaggi in mezzo. Mi ricordo che danno fastidio alla balena e riescono a fuggire perché la fanno star mutire. E poi finisce e diventa un bambino vero. Questo lo ricordo anch'io, dovrei rileggere, credo. C'è lo zaino con Pinocchio, il diario con Pinocchio, calzini con Pinocchio, pigiama con Pinocchio, scarpe con Pinocchio, gomme con Pinocchio, calzini no, felpe con Pinocchio, jeans con Pinocchio, sulle tasche. Matite con Pinocchio, penne con Pinocchio, grembiuli no, grembiuli tinta unita. I nasi si vendono a carnevale. Esiste anche il vestito di carnevale di Pinocchio. Asciugamani con Pinocchio, Pinocchio di legno di diverse altezze. Made in PRC, Repubblica Popolare Cinese. Pinocchio era un libro verde molto spesso, non finiva più, non mi ricordo il finale, mi veniva letto in tante occasioni. Mi ricordo che Pinocchio deve prendere una medicina amarissima e che non voleva prenderla. E che...